Stasera è una bellissima serata per l'Euroform, perché abbiamo scoperto tanti talenti e tante emozioni che la serata ci ha potuto dare. Che dire, siamo veramente entusiasti, perché insegnanti, tutor e ragazzi insieme hanno dato un'esplosione di gioia e spero con tutto il cuore che la serata possa concludersi nei migliori dei modi. Perché ecco, sono loro la nostra vera espressione e tutti noi siamo entusiasti e contenti della riuscita di questa serata. Ringraziamo tutti gli ospiti, ringraziamo chi ha dato l'opportunità stasera di esserci, e cioè i nostri alunni, che noi cuoccoliamo, curiamo e amiamo ed educhiamo. Perché la cosa importante è proprio l'educare i ragazzi ad essere migliori, a essere i futuri adulti e inserirli nel territorio, nella società, come i ragazzi che sono preparati culturalmente ad affrontare tutte le avversità della vita. Che dire, grazie, grazie ai nostri ragazzi, grazie all'Euroform. Grazie a tutti. Grazie a tutti.